Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Rivelazioni scottanti di Francesco Facchinetti che ammette la passione con la sua storica ex Alessia Marcuzzi È caos. Ma voi ve lo ricordate Francesco Facchinetti quando era ancora DJ Francesco e intonava ritornelli improbabili? Figlio di Roberto Facchinetti, storico componente dei Poo. Francesco ha dovuto faticare non poco per far capire al mondo intero che era molto più del classico raccomandato figlio di In effetti se fosse stato un raccomandato, la raccomandazione era di tutto rispetto. Ma l'ex cantante del, Capitano, ha dimostrato di essere molto di più Un vero e proprio imprenditore che a soli 20 anni viene indicato come il ventenne più ricco di Monza e della Brianza Ne ha fatta di strane e si è fatto spazio in un mondo pieno di squali che di certo non gli hanno risparmiato una serie di critiche A volta anche immotivate Lui che oltre ad essere cantante e imprenditore, è stato anche un uomo della tv Presentatore e anche ospite e concorrente in diverse trasmissioni Ricordiamo ad esempio, che Francesco Facchinetti ha preso parte all'Isola dei Famosi dove ha conosciuto la sua Aida Iespica di cui dice, ho avuto relazioni con donne molto belle. Aida è una di queste Mi sono ritrovato su un'isola deserta con lei. Cosa potevo chiedere di più? Una storia importante. Una delle storie più significative della sua vita è stata sicuramente quella con Alessia Marcuzzi da cui ha avuto una figlia mia I due sono stati insieme per molto tempo, e ancora oggi i due sembrano essere legati da un profondo sentimento di affetto e di stima reciproca Io e Alessia siamo molto simili. Abbiamo una grande considerazione di noi stessi, un forte amor proprio, che ci ha portato a realizzarci nella vita Se decidi di fare un bambino con una persona, è chiaro che c'è amore, c'è passione, c'è tutto E tra noi è stato così. Quando è finita, è rimasta una grande amicizia. L'affetto Resto sempre legato alle persone con cui ho condiviso una parte di vita. Ancor più se è la madre di mia figlia E il nostro obiettivo era ed è il bene di mia. Creare una zona protetta ci è venuto naturale Francesco e sua moglie. Attualmente Francesco Facchinetti è felicemente sposato con Vilma Elena Faisol dal 2014 Dalla fashion blogger brasiliana ha avuto due figli. Leone di 8 e Live di 7 anni Strano il loro incontro? Ci siamo conosciuti su una chat tra amici. Si programmava una vacanza di gruppo a Marrakesh Per un po' è rimasto un rapporto epistolare e basta. Quando finalmente ci siamo incontrati, uscendo dalla porta finestra della cucina, Vilma è inciampata ed è caduta ai miei piedi Da lì è cominciata. Spesso Francesco e la sua famiglia pubblicano foto in cui è presente Alessia Marcuzzi ed eventuali compagni Ricordiamo che la showgirl ha recentemente divorziato da Paolo Calabresi Marconi. Con cui si era sposata in gran segreto nel 2014 Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti.